Ercomi Sanremo 2022 con Insuperabile. Mirko è difficile già classificarlo questo brano anche dal punto di vista della costruzione sonora, me lo racconti un po'. Allora si vuole essere un riassunto un po' di tutto quello che è stato fino ad adesso, non so se ne avevamo già parlato e quindi rappresenta tutte le grandi storie che mi sono state raccontate dalla mia vita, dai musicisti, dalla mia curiosità nell'affrontare delle playlist nuove, quindi a degli ascolti differenti, consigli di colleghi. Per me è veramente fondamentale curiosare, ascoltare, immergermi in qualcosa che non conosco, poi non hai detto per forza che mi ci ritrovi, ma poi è capitato, è capitato con il rock, sta capitando col pianoforte, con la musica classica, con il jazz e quindi ogni tanto può venire fuori qualcosa di simile. Resta palese però che non ci sia un effettivo genere in tutto quello che sto facendo, non voglio neanche che ci sia, non me lo chiedo neanche poi, troppo. Mi diverto in studio, mi diverto e scrivo per la cosa che più mi piace. Senti, quanto ti ha inorgoglito il fatto che molti abbiano rivisto nella costruzione musicale semi di giganti come per esempio Depeche Mode? Quanto sono contento, io in realtà sono felicissimo perché si parla spesso, come giusto che sia, se si arriva dal rap, piuttosto che è capitato di ritrovare riferimenti a un Post Malone, a un Drake. È difficile trovare qualcosa che ti richiami per dire Depeche Mode, ma mi hanno detto anche effettivamente un po' così di Muse, i Kaiser Chief, ora come si pronunciano, non lo so. Quindi è divertente ed è bello che esca tanto altro perché la musica è veramente tanta. Quindi sono felice. Senti, c'è un artista a cui sei molto legato per tanti motivi e di cui farai anche una cover, appunto, nella serata delle cover, ed è un artista che tu giustamente una volta hai detto non è un rapper ma è un po' come se rappasse. Fa rock ma non fa solamente rock. Canta ma non ma non proprio canta. Ti ci rivedi un po' in questa definizione anche? Io mi ci rivedo tantissimo, mi ci rivedo tantissimo. Per quanto mi riguarda, parlo per me, ho la voglia di sperimentare, quindi canticchiare melodie. Mi vengono spontanee e come le penso, penso anche che si possano cantare. Ovviamente però non sono un cantante. Ovviamente spesso ho utilizzato l'autotune più come strumento, come come si può dire, correttore, no? Poi sappiamo tutti, credo si sappia, che più si è suonati e più l'autotune viene fuori, no? Quindi il motivo per cui effettivamente non non si sente poi così tanto, uno perché è molto lieve, spesso volentieri, e due perché ci arriverei comunque determinate note. Poi se si parla di performance, per dire io parlo insuperabile la prima sera, la tensione, l'affanno, ti porta a svirgolare un po'. Fortunatamente il brano vuole andare verso un'altra direzione, no? Vuole essere più una cosa grintosa, che è una cosa perfetta. E il bello del live è anche questo. Stavamo parlando prima, ovviamente lo diciamo per chi poi vedrà l'intervista, ovviamente di Vasco Rossi, il parallelismo era con Vasco Rossi, ovviamente. Sì, poi sono uscito. Ci sono delle differenze enormi, è pericolosissimo portare un suo brano, ricantarlo, ma è la cosa più vicina a me, insomma. E lo voglio fare, mi affascina appunto questa difficoltà. Senti, quando c'eravamo sentiti per Taxi Driver, poi per altri momenti topici della tua carriera, abbiamo sempre parlato un po' delle ascolti, della musica, mi ricordo una bella chiacchierata, abbiamo fatto dei per jam. Sono ancora dei punti di riferimento centrali per jam? Perché te lo chiedo? Perché io, anche lì è difficilissimo fare dei parallelismi, ovviamente, stiamo parlando di un gruppo che è storia della musica. Però, cavolo, provare a tendere, provare ad avere quel tipo di aggressività di prendersi il palco, di interagire con gli strumenti, è magico comunque muoversi con quei punti di riferimento lì sul palco. Sì, io, beh, per dire, Eddie Vedder è sicuramente un riferimento in questo, ma ce ne sono tanti altri, c'è Trent Reznor, c'è Dave Gunn, appunto, lo stesso Jack White, Josh Holm, salgono con uno strumento e quindi è diverso, no? Comunque ti dà una certa forza, ma anche Eddie Vedder, se non mi sbaglio. Sì, sì, ho dei riferimenti importanti che mi hanno fatto capire che bisognava fare di più sui balki, in termini proprio di fisicità. Senti, la curva dopo. Tu mi hai sempre detto, io non penso mai troppo al presente, penso sempre a una curva dopo. Non a caso mi avevi detto, sì, sono molto felice del successo di Taxi Driver, però guardo avanti, no? Qual è adesso la curva dopo? Cioè, l'ercomi di adesso, dell'album più venduto del 2021, l'ercomi di Sanremo che sta andando molto bene, poi dopo che sfida vuole affrontare? In termini lavorativi guardo sempre avanti ed è un problema, spesso e volentieri. Più che un guardare avanti è un aspettarsi che a un certo punto bisognerà andare avanti e quindi mi porta avanti in questo. Non ne ho idea, non ne ho idea, ci sarà sicuramente una grande pausa. so che voglio fare un album che farà la differenza e non so da quale lato, se da un lato di collaborazioni ancora più strane, più nuove, se da un lato più introspettivo, se da entrambi lati. So che ci sarà tanto lavoro da fare in termini di teoria musicale, perché voglio continuare il percorso del pianoforte e c'è da battere, c'è da correre forte. Non ne ho idea, voglio andare fuori, voglio andare fuori uno a visitare i paesi e due a conoscere musicisti. mi piacerebbe farmi accompagnare da qualcuno di veramente grosso che non sta in Italia, ma poi chi lo sa.